Torna l'8 maggio Ischia Cento, la gara ciclistica che sicuramente appassionerà tanti ischitani che sono saltati in sella anche grazie a Michele Scotto che ha divulgato sull'isola la passione per la bici. Allora parliamo di questo evento. Sì, l'8 maggio ci sarà la terza edizione di questo evento. Pian piano ci stiamo avvicinando a quello che erano gli obiettivi iniziali di questa manifestazione in quanto numeri e in quanto organizzazione vera e propria. C'è stato il primo anno ovviamente di rodaggio che ha visto partire circa 300 atleti. Il secondo anno c'è stato un forte incremento e ci aspettiamo altrettanto per questa terza edizione. Stanno arrivando le adesioni anche dal punto di vista degli atleti fuori dall'isola? Certo, noi puntiamo soprattutto agli atleti fuori dall'isola perché queste manifestazioni come abbiamo detto anche in tante altre occasioni sono un vincolo per portare turisti in periodi casomai morti dell'isola. Stiamo cercando di, insieme ad agenzie e alberghi, di formare dei pacchetti vantaggiosi per convincere queste persone con le proprie famiglie e amici a trascorrere il più giorni possibile prima e dopo della gara. Quale sarà il circuito? Si sa già l'orario di partenza e il tipo di giro? Il giro rimane sempre lo stesso, cioè due giri dell'isola di Ischia per la distanza breve per i meno allenati e tre giri per la distanza lunga. La partenza quest'anno sarà anticipata alle sette e mezza, proprio per liberare le strade il prima possibile così da andare incontro un po' alle esigenze di chi non può fare almeno di circolare in auto e per i partecipanti della manifestazione. I non allenati, l'ultima domanda, qualche consiglio tecnico, come fare una buona performance? Sicuramente lo sport del ciclismo in primis e poi questa manifestazione non si può improvvisare nulla perché questa è una corsa molto dura, ha delle salite molto arcigne dell'isola di Ischia quindi anche se si è poco allenati, prepararsi quanto meno per questo appuntamento, il consiglio è proprio questo, non improvvisare.